Quando c'è un po' di sofferenza fisica o morale, allora è anche difficile pregare, perché pregare comporta una certa superiorità sulle condizioni della vita ordinaria. E però pregare è quel salto di qualità con cui ci abbandoniamo a Dio e usciamo dalle strettoie e dalle costrizioni dell'ordinarietà. E facciamo allora scelte libere.